E' da due anni che sono madrina di questa iniziativa, è un'iniziativa che cerca di sensibilizzare i giovani su un argomento importante di cui però secondo me si parla ancora un po' troppo poco e appunto la lotta e la prevenzione all'HIV. Quest'anno abbiamo realizzato un video, appunto sono riuscita a coinvolgere anche molti amici, colleghi, attori, c'è Giorgio Pasotti che l'ha girato come regista, ci siamo anche divertiti e l'abbiamo girato anche per cercare di invogliare i ragazzi a partecipare a un concorso che ha come protagonista appunto proprio gli spot girati dai ragazzi con questo tema e un po' cercare di aprire un dialogo. Ci sono tantissimi ragazzi che veramente tanti che ci scrivono sul nostro sito, che appunto visitano questo sito e questo ci fa ben sperare un po' perché ci sono tanti ragazzi in Italia che sono appassionati di cinema ma allo stesso tempo si vogliono anche impegnare nel sociale.